Io sono convinto che la proposta di Io Treviglio sia una proposta varia, ci sono tanti volti nuovi, ci sono alcuni volti consolidati, credo che sia la possibilità di votare una lista civica in maniera tale che alla città di Treviglio venga garantita una pluralità di offerta. Ci sono sul mercato elettorale a oggi tantissime proposte, c'è anche quella di Io Treviglio, sono convinto della bontà di una squadra che non fa voli pindarici ma che propone alla cittadinanza cose concrete. Abbiamo dimostrato nel mandato precedente di saper prenderci impegni e di realizzarli, lo facciamo anche questa volta con Iuri Meri Sindaco. Più che torna resta Beppe Pezzoni, fa parte di Io Treviglio e non dobbiamo dimenticarci che Io Treviglio non è solo Beppe Pezzoni ma è una squadra ben assortita, è un gruppo di persone che ha deciso di mettersi a disposizione per sostenere la mia candidatura e soprattutto sostenere il programma e il progetto che abbiamo per la città di Treviglio. Un progetto che si basa sicuramente sulla continuità ma anche sul fatto di guardare avanti. Abbiamo amministrato secondo noi bene la città ma non abbiamo dato quel cambio di passo che vogliamo dare anche perché in cinque anni è praticamente impossibile. Quindi chiediamo ai trevigliesi di darci ancora fiducia, io sono molto contento delle quattro liste che mi sosterranno, liste complete con tante persone della società civile, tante persone che hanno esperienza ma anche tanta gente che si affaccia per la prima volta sulla scena politica. Questo è un riscontro positivo del mandato del presidente dell'amministrazione e poi come sempre saranno le urne a dire se la nostra proposta merita di essere premiato o meno. Quindi avanti tutto e con fiducia appuntamento al 19 aprile al TNT per la presentazione della squadra.